oh che hai johnny? mi sa che la cuoco un pochino ma è che c'è un po di influenza che c'hai? senti come so però c'ho un male di testa un male di gola mi fa un pochino male della schiena che scotto e me lo fai anche a me me lo fai anche a me ogni tanto ma che fai quando stai così? ma senti io medicina e nulla medicina e nulla io vado a casa prendo la mia moglie la spoglio tutta ci fa una bella sessione di sesso c'è una bella sudatina sai e ti fa anche bene fa anche bene e poi devo sto bene mi passa tutto però manca te ti è buono ma scusa puoi provare quindi basta che puoi a casa e il fuoco è nostra lì esatto ora ripasso e provo un pochino se ce la fai vai ok allora come stai? oh ti vedo bene ti sei ripreso eh? qualca miseria ha funzionato ha funzionato eh lo so ti ho dato un bel consiglio eh? guarda ti giuro sono arrivato lì ho fatto una sessione pazzesca mi sono ripreso al 200% e nulla comunque senti lo sai che a casa tua sono proprio belline le tende ok ok ok